Coronavirus, l'aggiornamento in Sicilia, 282 positivi e 12 guariti. Questo è il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicatoci dalla regione siciliana, all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento riferimento policlinico di Palermo e di Catania sono 3.294. Sono stati trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità, invece 282 campioni, ben 45 in più di ieri. Risultano ricoverati 129 pazienti, tra cui 23 a Palermo, 58 a Catania, 13 a Messina, 2 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 6 a Enna, 3 a Ragusa, 12 a Siracusa e 8 a Trapani, di cui 29 in terapia intensiva, mentre 138 sono in isolamento domiciliare, 12 sono guariti, 6 a Palermo, 2 ad Agrigento e Messina, 1 a Enna e Ragusa e 3 deceduti. Il prossimo aggiornamento avverrà domani, lo comunica la Presidenza della regione siciliana. Si raccomanda pertanto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Ulteriori approfondimenti, visitare il sito www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800 45 87 87.